Buongiorno, sono Francesco De Carlo e mi occupo di qualità e trasformazione nel nostro frantoio di famiglia. La nostra è un'azienda che gestisce un po' tutta la filiera, abbiamo sia un'azienda agricola, su cui coltiviamo circa 100 ettari di oliveto, oltre che a collaborare con 100-120 produttori che producono olive per noi, da cui appunto acquistiamo e trasformiamo. Da sempre nella nostra azienda, sin dagli anni 70, mio padre ha deciso di provare a montare impianti di estrazione continua. Come frantoio De Carlo, mediamente ci attestiamo intorno alle 400 tonnellate di olio l'anno, mediamente. La siamo avvocati alla produzione esclusiva di oli di alta qualità. Noi come azienda abbiamo scelto da tanto tempo l'Alfa Laval per l'estrazione dei nostri oli e in particolare per tanti anni, ma sono più di 50 anni, che utilizziamo il sistema a tre fasi di estrazione. Alfa Laval è stata sempre attenta a evolvere appunto i propri decanter per cercare sempre un miglioramento continuo che a noi permetteva da una parte di migliorare la qualità dei nostri oli e dall'altra parte di ottimizzare alcune spese come la gestione di acqua, piuttosto che la gestione delle temperature, piuttosto che appunto la buona variabilità che i decanter hanno nel gestire le portate. Con questa tipologia di decanter siamo sempre riusciti a variare velocemente le impostazioni, i settaggi e quindi ad adattare le macchine a quelle che erano le estrazioni che volevamo ottenere sostanzialmente, quindi alle caratteristiche degli oli che volevamo ottenere. Allora attualmente diciamo dall'ultima revisione che è datata a 2012 abbiamo in linea tre decanter, un X32 che è una macchina diciamo per me storica perché avrà circa 15-20 anni diciamo, poi c'è un X7 che è insomma una macchina di un diametro diverso, sempre tre fasi, che già rispetto al X32 essendo una serie nuova ha ottimizzato un po' i consumi di acqua, si permette normalmente di estrarre utilizzando meno acqua di fruttificazione. Avevamo un X6 che è stato sostituito quest'anno in prova per una collaborazione con Alfa Laval da un Sigma 6 che è insomma una macchina che è nata prettamente a due fasi, quindi per noi è un po' una novità nel senso che non abbiamo mai gestito realmente macchine a due fasi. Abbiamo deciso di provare questa macchina, in effetti noi abbiamo notato nonostante purtroppo quest'anno non abbiamo tante olive quindi la campagna si è conclusa diciamo brevemente diciamo al primo di novembre l'avevamo già finito, però nel periodo in cui abbiamo lavorato con temperature comprese tra i 15 e i 25 gradi diciamo ha sempre dato oli paragonabili a quelli del X7 che è una macchina collaudata nel senso che con il X7 abbiamo sempre ottenuto oli di grande qualità senza problemi, quindi c'è dato oli dal gusto, dalle caratteristiche simili, molto simili a quelle del X7 però c'è il grande vantaggio che non abbiamo usato per niente acqua di fridificazione ci dà due vantaggi, uno non utilizziamo energia per riscaldare un po' quell'acqua quindi abbiamo quel risparmio energetico e in più abbiamo il grosso risparmio di non dover andare poi a spandere quest'acqua sui terreni almeno nel nostro areale, nel nostro territorio dove non ci sono, dove l'apprezzamento è più grande comunque se non parliamo di 25-30 ettari è importante avere macchine che si adattano a diverse situazioni nell'arco della terza giornata sicuramente Alfa Laval può aiutarci a supportare le sfide future in vari modi difficilmente potremmo migliorare le rese di estrazione degli impianti, penso, perché ormai si è arrivati veramente a delle ottime residue sulla parte secca però, come nel caso dei Sigma 6, nello stesso modo potrebbe aiutare a semplificare, a snellire gli impianti ovvero è possibile migliorare la qualità degli oli e sicuramente in ogni caso la gestione degli impianti con Alfa Laval, diciamo, io eredito questa collaborazione da mio padre che è legato soprattutto alle persone che fanno parte del team Alfa Laval, oltre che alle macchine che producono perché è chiaro che per collaborare con un'azienda deve anche avere dall'altra parte delle persone disposte ai termini di una collaborazione che deve essere veloce e flessibile, così come il nostro lavoro come obiettivi per il futuro abbiamo appunto quella di cercare di aumentare la nostra produzione livicola nel rispetto sempre del territorio grazie a tutti